di cosa? bravissima piccola umanoide una maschera allora la prima domanda che devo farvi questa è seria è questa non rispondete sì rispondete proprio da umanoidi siete permalosi? già gli umanoidi non arrivano a guardare oltre non parlano nemmeno stanno là abbassa la musica guardate in cielo guardate su siete già in paradiso guardate su predite che meraviglia chi se ne frega vai deludente vero? state felici state bene amatevi odiatevi andate a fanculo state felici state bene amatevi odiatevi andate a fanculo coviduljento non è vero era un problema è vero è vero è vero ora per